Benvenuti nel mondo Eberhard & Co. Eberhard & Co. è uno dei marchi di orologi più iconici e prestigiosi al mondo, con una lunga e ricca storia che risale al 1887, anno in cui George Luce Neberhard fondò la sua azienda La Show des Fonds, in Svizzera. Da allora, Eberhard & Co. si è guadagnata la fama di produrre orologi di alta qualità, innovativi e dal design sofisticato, diventando un simbolo di lusso e prestigio. La società è stata fondata con l'obiettivo di produrre orologi di alta precisione per il mercato europeo, e nel corso degli anni ha costruito la sua reputazione sulla produzione di orologi di alta qualità, con un'attenzione particolare ai dettagli e all'innovazione tecnologica. L'azienda si è sempre distinta per la sua capacità di creare orologi che uniscono l'estetica alla funzionalità, senza mai sacrificare la qualità. Uno dei modelli più famosi di Eberhard & Co. è il Crono 4, un orologio che ha fatto la storia grazie alla sua particolare disposizione a quadrante con quattro contatori orizzontali per la visualizzazione dei cronometri. Questo orologio è diventato un'icona nel mondo degli orologi di lusso e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso degli anni. Ma Eberhard & Co. è molto di più che il Crono 4. La collezione Tazio Nuvolari di Eberhard & Co. è un'altra popolare linea di orologi, ispirata al famoso pilota italiano Tazio Nuvolari. Questi orologi presentano un design sportivo ed elegante, con un quadrante in carbonio e una cassa in acciaio inossidabile. La collezione Tazio Nuvolari è una perfetta sintesi di eleganza, stile e prestazioni. Eberhard & Co. è anche conosciuta per la produzione di orologi da donna, come la collezione Gilda, caratterizzata da un design elegante e femminile, con una cassa in acciaio inossidabile e una lunetta impreziosita da diamanti. Questi orologi sono un'ode alla bellezza femminile e al fascino senza tempo. In conclusione, Eberhard & Co. è un marchio di orologi di lusso di alta qualità, con una particolare attenzione all'innovazione e al design sofisticato. I suoi orologi sono prodotti con la massima cura e attenzione ai dettagli, utilizzando solo i migliori materiali e movimenti di alta precisione svizzeri. Gli orologi Eberhard & Co. rappresentano il massimo dell'artigianalità svizzera e sono un investimento duraturo, in grado di resistere alla prova del tempo.